Una confisca di 500.000 euro, un lungo curriculum criminale iniziato fin da minorenne, costellato da delitti contro la persona e contro l'ordine pubblico, conosciuto negli ambienti della criminalità come Ciano Unanu, è stato già condannato in via definitiva nel 2008 nell'ambito dell'operazione Libra e per associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti nell'ambito dell'operazione denominata OC, nonché destinatario di custodia cautelare in ordine al reato di tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso. Lui è Luciano De Carolis, un 44enne siracusano, ritenuto legato al clan mafioso Bottaro Attanasio. Il tribunale ha anche disposto l'applicazione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza per anni tre. È stato anche citato dal pentito Salvatore Lombardo, che lo ha accusato di aver ucciso insieme a lui Angelo Sparatore, ucciso con sei colpi di pistola il 4 maggio del 2001 e per questa vicenda è finito sotto processo proprio insieme ad Alessio Attanasio, ritenuto boss del clan che porta il suo nome, con quest'ultimo indicato anche come mandante di quel delitto. L'odierna confisca scaturisce da complessi e articolati accertamenti patrimoniali svolti dalla DIA e delegati dalla Direzione Distrettuale Antimafia Etnea, che hanno permesso di individuare il complesso dei beni riconducibili al pregiudicato siracusano in relazione proprio al suo profilo criminale. La confisca ha interessato un compendio aziendale operante nel settore della commercializzazione di carni, ma anche autoveicoli, conti correnti e rapporti finanziari. Grazie. 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 Grazie.